Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento, sono particolarmente felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi, c'è Alberto Bradanini, già ambasciatore italiano in Cina e in Iran, grazie per essere con noi. Grazie per l'invito. Particolare oggi vorrei parlare dell'Iran, perché l'Iran è uno dei paesi che gode forse della stampa peggiore, viene sempre indicato come il centro del male globale, un posto governato da oscurantisti violenti e fanatici che metterebbero in discussione la bellezza dell'Occidente. Con lo stesso trattamento i giornali italiani non lo riservano a paesi come l'Arabia Saudita, ma qui questo sarebbe un discorso molto lungo. E tornato di attualità, la questione dell'Iran, perché sembra imminente uno scontro con Israele, derivante anche dalle provocazioni continue dello Stato ebraico, che ha ultimamente colpito persino una sede diplomatica iraniana a Damasco. Intanto chiedo, cos'è in realtà l'Iran? È davvero un paese così violento, oscurantista come viene dipinto dal mainstream? Intanto quando si parla di temi complessi occorre sottolineare l'aggettivo e quindi entrare nella dinamica della complessità, si rischia di essere poi sempre apodittici e quindi mai in grado di giustificare quello che si dice. In particolare in questi tempi di demonizzazione del dissenso, perché qualsiasi punto di vista che si discosta dal mainstream, come dicevi tu, viene giudicato estremismo oppure addirittura corruzione morale o peggio. Come tutti i paesi al mondo l'Iran è un paese complesso, un paese che ha della ragione e dei torti, ha una politica estera giustificata che entra nell'analisi in termini di giustificazioni e di autotutela della propria sopravvivenza e dei propri interessi e una politica interna invece quanto mai problematica, una leadership che non gode della popolarità, una teocrazia a tratti addirittura spietata che lotta contro la modernità e che è destinata evidentemente ad essere sconfitta, è solo questione di tempo, ma questo appunto non giustifica una demonizzazione totale, in particolare perché di questo parleremo, in particolare per quanto riguarda la sua politica estera che è anche una politica militare, evidentemente che fa parte della politica estera nel suo concetto più ampio, di natura fondamentalmente difensiva, è un paese che è sotto sanzioni da 50 anni e che ha cercato di sopravvivere ciò nonostante, un paese quindi che ha i suoi diritti, fa parte come alcuni dicono del fronte della resistenza e cioè di coloro che cercano di tenere a bada il potere unipolare della grande potenza americana che distribuisce in tutto il mondo, come sappiamo non soltanto le sue 800 e passa basi militari che circondano tutti i paesi cosiddetti ostili o nemici, ma soprattutto minacce, sanzioni e guerre e dunque da questo punto di vista ha la sua ragion d'essere. Ora il bombardamento che ha subito nella sua rappresentanza diplomatica è di una gravità estrema, una gravità ben inteso sottaciuta dai nostri mezzi di comunicazione sia quelli televisivi che quelli stampati, si può solo immaginare che cosa sarebbe successo se ad essere colpita fosse stata l'ambasciata israeliana che dico al Cairo ad esempio o in Giordania o in Turchia o in un paese europeo con l'uccisione non soltanto di 7 cittadini israeliani ma anche di 4 o 5 cittadini del paese dove si trova o si troverebbe questa rappresentanza diplomatica, come è successo a Damasco. Le ambasciate, non soltanto perché io ci ho lavorato tanti anni ma anche perché così è per il diritto internazionale sia quello consuetudinario che quello pattizio, sono il luogo sacro che consente alle nazioni del mondo di non azzuffarsi 24 ore al giorno tutto l'anno e dunque sono luoghi dove gradualmente, lentamente si costruisce il percorso del compromesso e dunque mai dovrebbero essere colpite per nessuna ragione e dunque perché, la domanda è perché, se avvengono gli eventi, c'è sempre una ragione soprattutto quando sono non un incidente ma deliberati, ebbene Israele ha attaccato un punto critico politicamente, diplomaticamente come ho detto, ma anche come simbolo dell'Iran perché vuole coinvolgere l'Iran in questo scenario di guerra che come sappiamo è piuttosto complesso in Medio Oriente, non solo da ora. Perché? Perché Israele si trova davanti ad un muro senza via d'uscita, non solo per ragioni pregresse, ma beninteso dopo il 7 di ottobre del 2023, Israele ha intrapreso un percorso che non lo porta da nessuna parte. Le quattro, poi torneremo un attimo se mi è consentito sulle ragioni che hanno spinto Israele a bombardare l'ambasciata iraniana a Damasco, ma le quattro possibili soluzioni del mal di testa palestinese, chiamiamolo così, se i palestinesi me lo consentono, in realtà è una tragedia vera e propria, sono, seguendo la linea logica del ragionamento e non per farsi innamorare della musica, delle parole, come diceva un filosofo del secolo scorso, le quattro possibili soluzioni sono la soluzione dei due stati che, beninteso, Israele non vuole e che sarebbe comunque difficilissima, occorrerebbe cacciare perlomeno 700, 700, 800 mila coloni che si sono installati da decenni, peraltro alcuni, in Cisgiordania e poi consentire un collegamento in qualche maniera tra Gaza e la Cisgiordania e insomma anche sulla carta, anche sulla mappa geografica voglio dire una soluzione molto difficile. Comunque Israele assolutamente non l'ha mai voluta in fondo. La seconda soluzione è uno stato unificato con cittadini di prima e di seconda classe, praticamente uno stato di apartheid, come quello che c'è in Israele medesima e che potrebbe estendersi alla Palestina tutta, dal Giordano fino al Mediterraneo, se questa ipotesi diventasse realtà. Oppure la soluzione di uno stato unificato con cittadini con uguali diritto, ma siccome il tasso di natalità dei palestinesi è superiore a quello degli israeliani, sebbene gli israeliani diciamo più tradizionali, quelle con le treccine, hanno un tasso di natalità molto elevato, comunque nel complesso i palestinesi fanno molti più figli degli israeliani, questa soluzione significherebbe, si può immaginare, tra qualche anno la fine dello stato teocratico di Israele, comunque del dominio di Israele sulla terra di Palestina. La quarta soluzione, ancora più difficile, sarebbe la cacciata di tutti i palestinesi, sia dalla Cisgiordania e da Gaza, sia da Israele vero e proprio. I palestinesi nelle due sfere, nei due territori, ammontano a circa 7 milioni, 300 mila e cioè praticamente tanti quanti sono gli israeliani. Ora immaginare di cacciare più di 7 milioni di persone è davvero quanto mai una ipotesi astratta. Dove andrebbero? Chi li prenderebbe? Dunque Israele è senza via d'uscita, l'unica possibilità è coinvolgere gli Stati Uniti d'America. Dunque se l'Iran reagisse a questo attacco con un'aggressione di una certa rilevanza, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista simbolico, Israele spera che gli Stati Uniti potrebbero entrare in guerra. Gli Stati Uniti invece non vorrebbero essere coinvolti, soprattutto in questo anno elettorale, ma forse anche a prescindere, perché un coinvolgimento di Washington significherebbe la guerra totale in tutto il Medio Oriente. Se gli Utis sono stati in grado di obbligare tutte le flotte mercantili che prima passavano per il Mar Rosso di circumnavigare l'Africa, si può immaginare cosa sarebbe in grado di fare un paese di 85 milioni di abitanti che è armato pesantemente di missili e razzi che possono raggiungere certamente Israele, ma comunque tanti luoghi della regione dove ci sono anche basi americane. Come sappiamo ce ne sono decine e decine, nel Bahrain, in Arabia Saudita, nel Qatar e via dicendo. In assoluto lo stretto di Hormuz verrebbe bloccato, dallo stretto di Hormuz passa il 25-30% del petrolio mondiale, in questo caso l'inflazione riprenderebbe a galoppare, la borsa di New York verrebbe drammaticamente danneggiata e forse tutte le borse del mondo e dunque questo non è negli interessi degli Stati Uniti d'America. Normalmente Stati Uniti e Israele vanno a braccetto, condividono le stesse strategie e gli stessi interessi, ma non in questo caso. Si deve poi aggiungere, ed ho finito, che negli Stati Uniti le lobby pro-israeliane sono potentissime e sono quelle che impediscono tuttora a Joe Biden di dire basta a questo massacro di persone civili che feriscono non soltanto l'umanità di tutti noi, ma anche il diritto nazionale e il diritto internazionale. Nessun civile può essere ritenuto colpevole di quello che fanno eventualmente guerriglieri o terroristi di sorta. Questo lo dice il buonsenso, come ripeto prima ancora che la civiltà giuridica e se ci fossero, se ci sono, dei responsabili questi vanno arrestati e vanno portati davanti ad un giudice terzo affinché siano eventualmente condannati secondo le leggi vigenti, nemmeno uccisi sul posto come invece noi abbiamo fondamentalmente accettato e digerito senza fare una piega, come si potrebbe dire prosaicamente, davanti a questa enorme tragedia. Mi sembra una sintesi molto precisa che spiega bene quali siano i contorni principali di una tragedia in atto che però non promette in prospettiva nulla di buono, cioè non si riesce a capire bene quale può essere il punto di equilibrio di una situazione che appare ogni giorno più esplosiva, anche perché il governo israeliano guidato da un uomo valesemente fuori controllo come Netanyahu intende invadere persino Rafah provocando probabilmente la morte di un numero incredibile di civili palestinesi lì stipati in condizioni terribili senza che nessuno riesca a limitarne la furia, nemmeno i presunti supervisori americani che a parole sembrano volere consigliare a Netanyahu prudenza. Ora, l'Iran finora non ha risposto alla provocazione di Damasco, non ha risposto in realtà neanche quando ha subito gravissimi attentati terroristici che in parte ricordano le vicende del Crocus con modalità simili, ha reagito magari, insomma non hanno fatto cosa eclatante neanche all'indomani della morte di Soleimani. Non lo fanno perché non hanno la forza militare di rispondere o perché sanno perfettamente che queste continue provocazioni sono finalizzate all'allargamento di un conflitto che loro sostanzialmente non vogliono? Ci sono diverse ragioni, vi è una ragione contingente, l'Iran è un paese instabile, ha paura che un coinvolgimento in una guerra devastante per tutta la regione potrebbe dare avvio ad una rivolta interna. Il paese è governato da una minoranza impopolare e le opposizioni potrebbero guadagnare terreno, organizzarsi, magari anche all'interno del regime potrebbe verificarsi una spaccatura che potrebbe essere in grado di spazzare via l'attuale classe dirigente, questa è un'ipotesi che va sempre considerata. C'è però anche un altro ragionamento che si può fare. L'Iran è un paese governato da persone per certi versi spietate, come ho detto, che non guardano in faccia tanto al diritto, neanche al diritto umano, quando è a repentaglio la sicurezza del sistema e dei loro interessi, però è anche governato da persone che hanno il sangue freddo e che hanno una lungimiranza strategica. Se si guarda la scena sotto questo profilo si può capire la reticenza che il centro dirigente iraniano, formato fondamentalmente dal clero politico e dai guardiani della rivoluzione, quelli che noi chiamiamo prosaicamente Pasdaran, questa reticenza che ha un ragionamento e questo ragionamento è molto logico. Davanti ad una scena regionale dove Israele è un fazzoletto di terra che si sta inimicando tutti i popoli della regione. Ormai la strategia degli accordi di Abramo è morta e sepolta. Negli altri paesi le elite riescono a contenere la rabbia popolare fino a un certo punto, pagando comunque dei costi. In Giordania un milione di palestinesi premono affinché la Giordania possa allinearsi a Hamas e magari anche a Hezbollah e intervenire per difendere la vita dei loro concittadini in Palestina. L'Egitto è bilanciato tra due interessi. Le masse egiziane sono dalla parte della Palestina, ma al Sisi deve il suo potere e anche la sua sopravvivenza finanziaria al sostegno degli americani e comunque è combattuto. In Turchia Erdogan ha perso le elezioni amministrative anche perché è rimasto ambiguo nei confronti di Israele, a cui ha continuato ad assicurare petrolio e assistenza economica, mentre il popolo è ferocemente contro questa ambiguità e dalla parte della Palestina e quindi spinge affinché la Turchia faccia qualche passo in avanti in questa direzione. La Turchia è il paese che ha l'esercito più potente di tutta la regione, uno dei più potenti peraltro di tutta la Nato, paese Nato, che ha un rapporto dialettico con gli stessi Stati Uniti. Il Libano e la Siria sono evidentemente paesi nemici, pronti eventualmente, se ce ne fossero le condizioni, a passare il rubicone. Oltre a tutto ciò dobbiamo guardare la situazione all'interno di Israele. Quello che è successo dal 7 ottobre ad oggi ha portato ad una caduta degli investimenti dell'80% in Israele, ad una caduta del potere d'acquisto del 30% degli israeliani, un'inflazione che ha preso a galoppare, una riduzione del PIL del 27%. Molti israeliani stanno proiettando la loro vita futura al di fuori del paese. Non ci sono più annunci di altri ebrei che decidono di andare in Israele, come era il caso fino a qualche anno fa. In sostanza Israele si va prosciugando. Se questo contesto dovesse continuare, quindi secondo lo sguardo strategico lungo che sto attribuendo, non so se in maniera giustificata, alla leadership iraniana, ebbene secondo questo sguardo lungo, Israele sarà sempre più asciutto, in difficoltà con tutti i paesi della regione e in difficoltà persino a agganciare il grande fratello atlantico, anche se con Donald Trump che probabilmente vincerà di nuovo le elezioni non dovrebbe cambiare molto. Purtuttavia all'interno della nazione americana ormai la maggioranza è per la Palestina e l'amministrazione ha difficoltà a continuare questa sua ambiguità strategica, fondamentalmente questa sua politica di sostegno a Israele, perché le parole di Joe Biden o di Antony Blinken o di Austin sono solo parole, come dicono gli inglesi, sono lip service, cioè servono per muovere le labbra, ma non hanno nessuna consistenza, fin tanto che gli americani non decidono di bloccare le forniture di armamenti a Israele, non soltanto gli americani, anche europei e altri appartenenti allo schieramento occidentale, come gli australiani ad esempio, che continuano a rifornire Israele di armi. Fin tanto che questo non avviene, evidentemente Israele può ancora contare su questo sostegno cruciale, fondamentale, ma anche questo nel futuro, questo è il mio pensiero, è a rischio. Dunque in questo quadro la reticenza da parte di Israele, perdono, da parte dell'Iran a non farsi coinvolgere da queste provocazioni è giustificabile. Ecco vorrei cercare di capire di più a beneficio di chi ci ascolta sul rapporto tra l'Iran e la Russia. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, specie nella prima fase, venivano presentati dal mainstream come alleati strategici, una serie di droni di produzione iraniana venivano utilizzati, forse vengono ancora utilizzati dai russi in guerra e questo asse, diciamo, Cina, Russia e Iran viene presentato come sempre più solido. Ecco, cosa c'è di vero in tutto questo? E poi volevo capire anche se l'ingresso contemporaneo nei BRICS di Iran e Arabia Saudita, che è lo storico avversario nella regione per l'appunto di Teheran, segna un cambiamento sostanziale nell'equilibrio dell'aria. Ma intanto va detto che il quadro che si va evolvendo in Medio Oriente è drammaticamente pericoloso, perché anche in Medio Oriente si va aprendo il rischio del confronto tra due potenze nucleari. I russi sono presenti, come sappiamo, in Siria e con la loro presenza hanno fortemente contribuito a sconfiggere l'Isis, che non è mai stato un vero nemico degli americani, ma come sappiamo una pedina per destabilizzare i paesi che potenzialmente possano infastidire Israele. Le ragioni della presenza della grande potenza americana in Medio Oriente sono note, sono non soltanto gas e petrolio, di cui la regione è ricca, ma anche la tutela strategica di Israele, ma poi possiamo aggiungere la teoria del caos, cioè creare confusioni, tensioni, guerre, vendere armi a tutti, dividere amici e nemici, far salire il corso del petrolio, il corso del dollaro e dunque perpetuare il potere unipolare dell'unica nazione indispensabile al mondo, come diceva quel malato di Bill Clinton. Bisognerebbe invece, per chiudere questo punto, che si imponesse la teoria dello svuotamento delle grandi potenze in Medio Oriente, non del caos, che il caos poi non è in definitiva, cioè l'abbandono da parte delle grandi potenze occidentali e anche di tutte le grandi potenze, se si vuole, anche quelle come la Russia che è stata tirata dentro per i capelli e per le ragioni che ho detto prima. La Russia, come forse alcuni non sanno, ha una sola base navale al di fuori dei propri territori, a Tartus in Siria, nel Mediterraneo, se togliamo quella di Sebastopoli che in questo momento si trova in territorio russo perché la Crimea è stata annessa alla Russia. Dunque lo svuotamento significa che le grandi potenze se ne devono andare dal Medio Oriente, se se ne andassero davvero si creerebbe con il tempo un naturale equilibrio tra le medie potenze della regione e persino Israele troverebbe un punto di incontro con il mondo arabo-musulmano, magari non domani mattina, ma gradualmente con il tempo perché in fin dei conti tutti hanno come massima e prima priorità la sopravvivenza e dunque sarebbero anche disposti a fare dei compromessi e a riconoscere il diritto di altri popoli e di altre minoranze etniche e religiose che siano. Comunque con la presenza della Russia in Siria che finora però ha sempre rispettato una certa restrizione dal punto di vista militare, non ha mai ad esempio utilizzato gli SS-400 che sono dei missili che colpiscono gli aerei in volo con massima precisione e sono più precisi ed efficienti dei Patriots, più noti in Occidente, ebbene non li ha mai utilizzati, non li ha neanche mai fatti utilizzare dai siriani o dagli iraniani che ce li hanno, avrebbero potuto darli ai siriani, perché? Perché questo avrebbe comportato un confronto diretto con Israele che oltre a essere una potenza nucleare, l'unica della regione ricordo, altro che l'Iran, nei confronti del quale non si è mai trovato la prova che stesse davvero, che volesse davvero costruire la bomba, ma soprattutto verrebbe a confrontarsi con gli Stati Uniti d'America che sono il grande fratello di Israele, ricordo che Israele e Stati Uniti sono due nazioni fortemente integrate, come mai si è verificato tra due nazioni nel corso di tutta la storia umana, è probabilmente il 51esimo Stato degli Stati Uniti d'America o il 52esimo se per qualcuno il 51esimo fosse la Gran Bretagna. Dunque nel caso in cui ci fosse un allargamento del conflitto, poiché ormai l'integrazione politica e direi anche militare tra Iran e Russia è piuttosto acclarata e consistente, non è impossibile che la Russia possa essere a sua volta coinvolta e alla luce poi di quello che sta succedendo in Ucraina questo davvero potrebbe essere un elemento estremamente drammatico. Quello che sorprende in tutto ciò, lo dico en passant, è due cose, la discrasia tra il sentimento popolare, le popolazioni occidentali sono preoccupate. Ormai l'ultima indagine che si è fatta in occidente, in Europa solo il 10% degli europei per vincere la guerra contro la Russia e solo il 12% degli americani. Dunque c'è una discrasia tra le elite che decidono e i popoli che esprimono preoccupazioni, esprimono addirittura un sentimento di così ampia evidenza, ma evidentemente da noi la democrazia è solo una parola vuota, democrazia significa il potere del popolo, ma il popolo allora non conta nulla, non viene nemmeno consultato su queste cose drammaticamente prioritarie come sono la pace e la guerra, che cosa devono fare le elite, lo decidono loro e d'altronde come sappiamo in America i presidenti sono di norma ostaggio delle agenzie di intelligence, ce ne sono 17, io solo sa cosa fanno, sono ricche di mezzi e di risorse finanziarie, sono loro che detengono il potere di scegliere dove dirigere la politica estera del paese da una parte o dall'altra e il popolo allora non conta assolutamente nulla. Questo è una riflessione drammatica, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, noi parliamo del Medio Oriente e anche lì si annunciano venti di guerra, ma insomma anche in Europa ormai da due anni e più e dunque per tornare al Medio Oriente anche lì il quadro potrebbe diventare ancora più drammatico con il possibile coinvolgimento dell'Iran, a meno che l'Iran non facesse appunto, non desse uno sguardo più calmo e più ragionato come quello che ho evocato un momento fa e a meno che gli Stati Uniti a loro volta decidessero comunque di non farsi coinvolgere o ancora meglio di convincere Israele a porre fine a questa carneficina che poi si chiama geocidio, massacro o punizione di massa eccetera per la gente che muore sotto le bombe o muore di fame, ben inteso cambia ben poco. Ecco dunque questo è il quadro, per quanto riguarda la Cina e cioè il Sud globale che potrebbe far sentire la sua voce, ebbene anche qui abbiamo delle novità, questa volta però novità positive, non negative. La Cina ha favorito un riavvicinamento tra Arabia Saudita e Iran, come sappiamo lo scorso anno ha favorito insieme alla Russia un reingresso della Siria nella Lega Arabe, quindi un riavvicinamento del mondo arabo-musulmano, che è sempre positivo perché quando i paesi agiscono attraverso le organizzazioni internazionali anche i loro impulsi più aggressivi vengono attenuati, quindi il coinvolgimento in un tavolo di lavoro che vede la presenza di altri paesi è sempre positivo in ogni circostanza. Dunque i BRICS guidati come ben noto, anche se non formalmente, ma di fatto dalla Cina sono un elemento di imporre alcunché, non sono un'alleanza militare come la Nato, non sono nemmeno uniti da una stessa ideologia, da una stessa strategia, sono paesi che stanno disegnando un mondo plurale, che sono uniti da un cemento di straordinaria importanza, anche per noi europei e per noi italiani, direi, e cioè il principio della sovranità, il recupero della sovranità per noi italiani all'interno di una Unione Europea devastante dovrebbe essere la stella polare. Ecco per i BRICS lo è già, però tutto ciò non consente di immaginare un gruppo di paesi che possano fare la differenza in Medio Oriente. L'ultima cosa che vorrei sottolineare è che in ogni caso un'eventuale azione mediatrice da parte della Cina, insomma il più grande dei paesi BRICS e il più importante, potrebbe essere esercitato questo ruolo soltanto a determinate condizioni, le condizioni sono quelle che suggerisce il buonsenso e cioè avvicinare due parti significa promettere qualcosa alle due parti, staccare un assegno affinché le due posizioni possano gradualmente avvicinarsi. Sicuramente la Cina sarebbe in grado di promettere per esempio ai palestinesi di ricostruire la loro terra, di partecipare ad uno sviluppo pacifico, economico e industriale, ma a Israele la Cina non potrebbe offrire nulla, anche perché come ho detto Israele è fortemente integrato agli Stati Uniti, quindi fare la mediazione tra Palestina e Israele significherebbe di fatto farla tra la Palestina e gli Stati Uniti d'America e questo la grande potenza unipolare del pianeta non lo consentirebbe mai. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda in maniera più precisa i rapporti tra l'Italia e l'Iran, come sono stati in passato e come sono adesso? In passato sono stati dei rapporti straordinari, abbiamo costruito parti importanti delle infrastrutture iraniane, il porto di Bandarabas, impianti di produzione di acciaio, di alluminio, autostrade e via di seguito. Abbiamo importato molto petrolio, il nostro Mattei è venerato come un personaggio che ha fatto la storia delle relazioni tra l'Iran e l'Occidente e anche per questo come sappiamo ha pagato con la vita. La simpatia nei confronti dell'Europa, ma direi in particolare di alcuni paesi europei e l'Italia in primis è massima, sia presso la leadership direi, la simpatia, non direi evidentemente l'adesione politica, quella no, loro sanno che noi apparteniamo ad un fronte di alleanze nemico e quando dovessero emergere delle situazioni di critiche, è ben noto che i paesi vassalli dovrebbero allinearsi senza tanti distinguo e questo evidentemente gli iraniani lo sanno bene, ma a parte questo i legami anche culturali, i legami storici tra l'Iran che ricordo una volta si chiamava Persia, già il nome Persia evoca tutto un percorso straordinariamente prezioso e anche importante nella storia dell'umanità. Dunque questo è il quadro di fondo, oggi però le sanzioni che non sono sanzioni legittime, sono sanzioni unilaterali, quindi per il diritto internazionale illegittime, però sanzioni molto efficaci guidate e volute dagli Stati Uniti d'America impediscono dei rapporti che invece potrebbero far rifiorire le nostre relazioni industriali, gli investimenti reciproci e l'Iran direi non aspetterebbe altro, ricordo a un passant per chiudere che nel 2015 Barack Obama riuscì a vincere la resistenza del Deep State o del Permanent State, cioè del riavvicinamento con questo grande paese che si vuole, si continua a volere come un nemico senza troppe ragioni a parte Israele e ci torniamo sopra sempre. Dunque nel 2015 Barack Obama era riuscito a definire un accordo che avrebbe imposto ulteriori verifiche sulla gestione dell'atomo, diciamo così pacifico, l'utilizzo dell'atomo per produrre energia elettrica da parte dell'Iran in aggiunta alle verifiche che la IEA, l'Agenzia delle Nazioni Unite, attua in adesione alla circostanza che l'Iran è parte del trattato di non proliferazione, mentre come sappiamo Israele non lo è. Questa è la ragione per la quale tra l'altro Israele, anche se non lo dice apertamente, possiede centinaia di testate nucleari. Dunque nel 2015 quest'accordo sembrava aprire uno scenario straordinario di relazioni e anche gradualmente di normalizzazione di questo paese. Purtroppo il suo successore Donald Trump lo ha cancellato nel 2018, tornando alla vecchia articolazione critica dei rapporti bilaterali e siamo ancora in questa situazione. Dunque le prospettive anche qui sono piuttosto tristi, perché se a novembre, come dicevo, dovesse vincere Donald Trump, quello che ci aspetta è la continuazione di queste criticità. Ricordo come ultimissima annotazione che Donald Trump, che forse farà qualcosa sulla guerra in Ucraina, come dice di voler fare, non farà però quasi nulla o aggraverà addirittura la situazione in Medio Oriente, perché Donald Trump è stato colui che quando era presidente decise di fare tre regali ulteriori e ulteriormente aggravanti della situazione a Israele, trasferì l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, ricordo che per la comunità internazionale la capitale di Israele non è Gerusalemme, ma è Tel Aviv. Le risoluzioni ce ne sono diverse, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono quanto mai chiare in proposito. Le alture del Golan, tre quarti delle alture del Golan, un po' meno di un quarto è stato restituito alla Siria, ma più di tre quarti sono tuttora controllate da Israele e Donald Trump riconobbe la sovranità di questo territorio a vantaggio di Israele, violando anche qui il diritto internazionale. La terza cosa che fece fu quello di riconoscere legittimità ancora una volta agli insediamenti israeliani in Cisgiordania, noi li chiamiamo insediamenti, ma la traduzione vera è furto di case e di terra ai danni dei poveri palestinesi. Quindi se Donald Trump tornasse alla Casa Bianca nulla di buono possiamo aspettarci. Grazie ad Alberto Bratanini per questa intervista davvero illuminante. Grazie per l'invito e buona giornata. Bene cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questo importante e puntuale approfondimento. Cerchiamo sempre di darvi il meglio, di offrirvi un'informazione completa, profonda, non manipolata, tipica, la manipolazione è tipica di un mainstream che oramai non informa, ma cerca attraverso la propaganda di formare il pensiero dei cittadini, anzi diciamo meglio di conformarlo rispetto al desiderio della classe globalizzata dominante. Visione TV è una TV libera che può fare questo perché la nostra libertà dipende da voi, dal vostro sostegno. Se apprezzate il nostro modo di lavorare aiutateci con Bonifico, Paypal o abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it vi invito inoltre a sostenere il nostro mensile, la nostra rivista Visione un altro sguardo sul mondo, abbonatevi sul nostro sito www.visioneeditore.it e acquistate l'ultimo numero sempre sul nostro sito. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.